voi il quattro maggio dovete venire a fare il secondo spostati al 14 il 14 oggi ci hanno telefonato oppure messaggino per dirci che ci sarà il 19 e voi rimanete nei 42 giorni il quattro aprile quel che non si riesce a capire qual è la ragione se la ragione perché la legge adesso sposta al secondo vaccino al 42esimo giorno ok noi staremo tranquilli aspettiamo ancora i cinque giorni questo non ci viene detto e temiamo che la natura del problema sia legata alla mancanza del secondo vaccino cosa succede nel caso che noi si riceva ancora un altro mandato di spostamento a chi ci rivolgiamo siamo coperti non siamo coperti noi che facciamo questo tipo di vaccino facciamo parte dei fragili sono a pratola però perché sono a pratola e quello io l'ho sollevato il quesito perché a pratola sia noi ce l'hanno annullato fino al 19 il problema quindi non c'è moderna ma loro hanno capito che noi col 19 siamo al 43 giorno e poi a livello nazionale l'aquila sta reclamando sulla partita moderna perché non lo sappiamo non lo sappiamo come si fa ad arrivare lì da sul mona o castel di sangro all'aquila dobbiamo fare questa pagliacciata non bisogna rispondere questo è l'aquila che io però so che ti dico che tu sai reclamare e fai una denuncia perché sicuramente se io vado al quarantesimo giorno dovevano mandare la metà a pratola e la metà sul muoio minimo perché sono nominativi non trovate niente